Buongiorno a tutti dalla Romagna, dalla vostra Blobber Cucagnacè e come vedete oggi non ci sono le Twins Cucagnacè perché le ho lasciate a casa, ho cambiato lo studio, ho lo studio della mia Prince. Bene, questo video oggi lo voglio dedicare alle certezze che non ho più, perché ieri sera mia figlia mi fa guarda mamma che domani è il primo giorno di primavera, ho detto no Nani guarda ti sbagli perché il primo giorno di primavera è il 21 marzo, lo so per certo perché era il compleanno del bisnonno e ogni volta che è il 21 marzo inizia la primavera e faccio un pensiero per lui che non c'è più no no mamma vai a vedere in Google che il primo giorno di primavera è domani, vado a vedere Santissimo Google che io amo la follia e che consulto sempre bene, il primo giorno di primavera dice che è oggi il 20 marzo bene, guardate, io ci sono rimasta malissimo perché certi studiosi, certi scienziati hanno fatto appunto degli studi e hanno dedotto che il primo giorno di primavera è il 20 marzo io non ho studiato tanto, ho fatto la terza media, sono arrivata fino alla terza media quindi ho delle certezze nella vita, delle certezze che il primo giorno di primavera è il 21 marzo ho fatto il compleanno del mio bisnonno, ma per avere delle certezze proprio più di Google ho telefonato alla nonna, alla nonna Cuccagna, ma ascolta, ma quando è il primo giorno di primavera? Nani, è il 21 marzo il primo giorno di primavera, ma se Google dice che è oggi il primo giorno di primavera il 20 marzo? Nani, gli scienziati dicono questo, ma il primo giorno di primavera per noi normali, per noi umani è il 21 marzo, era il compleanno del mio nonno, ecco se lo dice la nonna per me, guarda Google non ti offendere ma quello che dice la nonna è sacrosanta verità, quindi forza nonni, ricordatevi tutto perché qui il mondo sta cambiando qui internet ci sta cambiando tutte le date e noi non abbiamo più certezze però una certezza ce l'ho, che il primo giorno di primavera per me sarà domani, il 21 marzo è il compleanno del mio bisnonno, e farò un pensiero gentile per lui che è già lassù da un po' di tempo ciao a tutti dalla vostra Blobber Cuccagna c'è e dalla Romagna e dalle Twins Cuccagna che non ci sono